Sabato 22 luglio, buongiorno a tutti e bentrovati al nostro appuntamento con il Tg Rassegna Stampa. Andremo a leggere i giornali in edicola questa mattina ma subito, come di consueto, apriamo la nostra finestra sul Tiguglio per vedere la giornata di oggi, come sarà caratterizzata dal punto di vista del meteo e uno scenario un po' insolito rispetto al periodo. Abbiamo nuvole all'orizzonte, foschia e cieli bassi, si annuncia il transito di un veloce passaggio, appunto porterà perturbazione e instabilità, sarà una cosa veloce e non si vedrà neanche la pioggia, almeno questo secondo quello che dicono i previsori del Limet, di cui andiamo a leggere fra poco le previsioni. Questo è il Golfo del Tiguglio con punta baffe sullo sfondo, vediamo la foschia bassa all'orizzonte, il Monte di Portofino, ci spostiamo anche nell'entroterra dalla vetta del Monte Caucaso e la Fontana Buona appunto che è coperta, si intravede poco a causa della foschia in corso, in atto in questo momento. Fa caldo, le temperature comunque rimangono molto elevate, tipiche del periodo, in queste prime ore della mattina siamo sui 25 gradi lungo la costa, si scende leggermente con 22 gradi in Fontana Buona, fa un po' più freschino nell'entroterra, 16 gradi a Rezzoaglio fino ad arrivare ai 14.3 gradi di Rocca Daveto, ma quando tornerà il sole, uscirà dalle nuvole, sicuramente le temperature si andranno ad alzare ulteriormente per toccare i valori che abbiamo registrato, di 30 gradi che abbiamo registrato in questi giorni. Dunque le previsioni, correnti, la situazione vede il passaggio di correnti occidentali che interessano al nord Italia e sulla Liguria ci sono condizioni di variabilità ma con basso rischio di precipitazioni, come dicevamo. In mattinata nuvi basse sul settore centro-orientale della regione con rischio di qualche occasionale rovescio, specie in prossimità dei rilievi. Tempo più stabile altrove, nel pomeriggio rischio di un temporale tra le Alpi Liguri e la Valle Bormida occidentale, siamo quindi nella Liguria di Ponente, con sconfinamento attenuato lungo la costa sottostante, variabilità con ampie schiarite altrove, generale attenuazione delle precipitazioni a partire dalla serata. I venti saranno moderati dai quadranti meridionali con rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio, mare mosso o localmente molto mosso, temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime. Queste dunque le previsioni per la giornata di oggi con le relative grafiche, guardiamo per domani, sparisce anche le nuvole con la pioggia, nubi basse al mattino lungo la costa centro-orientale al mattino in via di attenuazione, soleggiato altrove, tempo in genere soleggiato nel pomeriggio, a parte qualche nube bassa lungo la costa centrale, ma senza conseguenze, i venti moderati meridionali con locali rinforzi, mare molto mosso localmente agitato a largo, temperature stazionarie. Gettiamo uno sguardo anche alla giornata di lunedì, con nubi sparse su tutta la regione, ma senza piogge, ventilazione moderata dal sud, temperatura stazionaria dunque. Questo cielo non propriamente sereno, con nuvole in rapido passaggio sui cieli del Tiguglio. Uno sguardo al santo del giorno, oggi si venera Santa Maria Maddalena, discepola del Signore, che appunto, la presenza è anche nei Vangeli, poi si venerano il Beato Agostino d'Abiella, San Van Regislio, poi San Giovanni Lloyd, San Gironamo di Pavia, San Gualtero, queste le altre figure di santi venerati dalla Chiesa nella giornata di oggi 22 luglio. E andiamo a leggere dunque i giornali indicola questa mattina, partiamo da avvenire l'invito che arriva dal presidente del CEI, il Cardinale Zuppi. Impegno per tutti, il tema è quello della politica, spesso epidermica e ignorante, e l'invito è quello esteso a tutti i cattolici in campo, antidoto alle tossine. Intanto continua il lavoro di tessitura dell'inviato di Papa Francesco per la pace in Ucraina, adesso si guarda a Pechino, dopo essere stato negli Stati Uniti nei giorni scorsi. Intanto il presidente dei Vescovi degli Stati Uniti, Broglio, dice il dialogo non si fermi. Zuppi ha parlato in occasione dell'incontro per gli 80 anni del Codice di Camaldoli. Intanto continuano i bombardamenti in Ucraina e Polonia in allarme per la presenza ai confini dei militari della Wagner. Leggiamo l'articolo che poi invita comunque alle pagine interne. A Camaldoli, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente della CEI apre l'ottantesimo anniversario del Codice che influenzò profondamente la stesura della Costituzione. Esprona i credenti all'impegno, non ci sono alibi, la visione cristiana tende al bene comune. Il monito, poi l'infiacchimento della democrazia è sempre un cantivo presagio per la pace, presente il capo dello Stato Sergio Mattarella. Intanto, dagli Stati Uniti, il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Timothy Broglio, giudica positivamente l'incontro tra il presidente Biden e il cardinale Zuppi e anche la possibilità di una quarta tappa del porporato a Pechino, per la quale è giunta la disponibilità delle autorità cinesi. Periodo di superlavoro per la diplomazia vaticana, impegnata anche sul fronte della liberazione del vescovo nicaragüense Alvarez per il caso Sacco e per i rapporti bilaterali con la Cina. E lo vediamo in foto, a centro pagina una storia. La storia è Bentolo dal Papa dopo le sofferenze e la fede in Libia, dalle preghiere in prigionia all'incontro che lenisce le ferite. Aspettavo di incontrarti, il tuo gesto mi ha commosso. Queste le parole di Papa Francesco quando ha abbracciato Bentolo e si è sentito guarito da tutte le ferite, adesso chiamerò i miei amici ancora prigionieri in Libia e gli farò arrivare la benedizione del Papa, ha detto tenendo per mano il Pontefice. Il Papa desiderava da molto questo incontro. Bentolo è un giovane camerunese, fuggito nel 2020 dal conflitto che non gli ha lasciato scampo. Combattere oppure sfuggire alla logica dell'odio. Ha fatto la fine della preda, ha catturato dai trafficanti in Libia e è stato venduto ai guardiani di Stato che l'hanno portato in un campo di prigionia ufficiale a Zihuahi sotto il controllo della minizia di Al Nasr e la storia la troviamo a pagina 8. E intanto un'altra foto che fa vedere la preghiera davanti a una croce improvvisata in un campo di prigionia a Tripoli dove è stato appunto anche detenuto la persona che ha incontrato Papa Francesco. Altro tema, quello delle droghe, strategie contro le dipendenze, centrale l'educazione, alcol e psicofarmaci, così l'abuso è legale. La lotta alle dipendenze del nostro Paese non può che partire dalla consapevolezza che il consumo di alcol e psicofarmaci nella popolazione più giovane riguarda innanzitutto sostanze legali. Il giorno dopo la presentazione della relazione sulle droghe in Parlamento gli esperti spiegano quali sono le strategie possibili per uscire gradualmente dall'emergenza. È il sistema da ripensare partendo dal modello da rivedere dei CERD. E per Riccardo Gatti, tra i massimi esperti di dipendenze nel nostro Paese, servono interventi diversi che non siano solo repressivi o solo terapeutici. Uno sguardo poi agli esteri, elezioni in Spagna popolari in vantaggio con l'ombra di Vox e lo sguardo a Meloni, domani alle urne per il voto anticipato, Feigio è davanti ma ancora lontano dalla maggioranza di 176 seggi, si profila dunque l'alleanza con l'ultradestra che per la prima volta nel post-franchismo appunto si affaccia allo scenario politico in Spagna. E altri temi all'interno del giornale, Mattarella, dalle banche del credito cooperativo, aiuto allo sviluppo, ieri l'assemblea di Federcasse e poi l'incendio nella RSA, anziani soli anche il giorno dei funerali, l'episodio dell'incendio alla casa di riposo di Milano e poi la chiesa in Brasile, comunità di base per una nuova società. Dunque questi i temi che abbiamo trovato sulla prima pagina di Avvenire oggi in Edicola, che avvenire che lasciamo, andiamo ad aprire invece il secolo XIX, il tema è un altro, questa volta è legato alla situazione di caldo, lavoro è emergenza caldo, chiesti cassa integrazione smart working per le alte temperature, riunione del ministero martedì, sindacati dicono e tardi subito un decreto e Confindustria dice usiamo gli stessi rimedi del Covid, intanto all'Ailex di Chiavari si sciopera per l'aria condizionata, il caldo sui luoghi di lavoro è un'emergenza, lo dimostra il caso dell'Ailex di Chiavari dove i lavoratori sono scesi in sciopero per il rifiuto dell'azienda di prolungare l'accensione dell'aria condizionata, la ministra del lavoro Calderone ha convocato un tavolo per la prossima settimana, ma Cigelle e Will chiedono un decreto subito, non si può rischiare la vita sul lavoro, il presidente di Confindustria Bonomi propone di adottare le misure dell'emergenza Covid, ovvero smart working e cassa integrazione. E poi altro tema legato al lavoro, il salario minimo, musmece l'attacco del salario minimo è assistenzialismo. L'idea di Valdictara, altri temi all'interno, il ministro dell'istruzione, scuole aperte in estate per aiutare le famiglie, tenere le scuole aperte anche l'estate, questa è la ricetta del ministro dell'istruzione Valdittara per dare un'aiuto ai genitori che lavorano, oggi è costretta a fare i salti mortali tra centri estivi e parenti per i loro figli. Altro tema che ritroviamo all'interno del quotidiano, progetto e sicurezza, così cambia la gronda, a Genova le modifiche necessarie a realizzare il nuovo tratto autostradale, il progetto della gronda autostradale di Genova va aggiornato, ma in che modo, si chiede il giornalista, dopo le parole del ministro dei trasporti Salvini, diventano più chiare le ragioni del ritardo nell'apertura effettiva dei cantieri fermi alle opere preliminari. Il percorso non sarà modificato, dice il vice ministro Rixi, si sta lavorando però sulle dotazioni di sicurezza, sui dispositivi di monitoraggio delle gallerie, sulla regia delle cantierizzazioni in una zona già interessata da lavori di grande impatto. L'Università di Genova sarà coinvolta nella validazione dei progetti. In foto lo sport, Rete Gui rivela, sarò rosso-blu, Genova un bomber dall'Argentina, nell'ultima partita vediamo il giocatore con gli argentini del Tigre, arriverà a Genova per il centroavanti dell'Italia 17 milioni, Zangrillo dice non è ancora chiusa però, quindi si dovranno vedere gli sviluppi di questa trattativa di mercato, di calciomercato per le prossime ore. I temi in alto, la no di Zacchia e il volo di Stato, slitta la festa a Bologna, dopo la scarcerazione il giovane ha rifiutato il volo di Stato, arriverà con un aereo di linea, e poi la Spagna verso il voto, Morsia nel regno di Vox, Abascal come Meloni. E poi concerti nella storia, Genova nel 2021, Manuciao e Don Gallo, la speranza prima del G8, un revival di un evento che c'è stato nel 2001. E poi la cronaca, Crollo del Voltino, riaperta la strada di Mezzanego, ne parleremo anche nelle pagine interne, la pagina del Levante, e poi il trasporto pubblico, il piano via mare, linea di battelli, bus dal Tiguglio a Savona, è stato presentato ieri in città metropolitana. Ne parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali. Noi andiamo a sfogliare le pagine del Levante, del secolo XIX, che ci portano in apertura a Rapallo, perché questa sera sono attese migliaia di persone per un'iniziativa di Radio 101, migliaia con Mr. Rain e The Colors, Rapallo in piazza per il concerto, il Summer Festival stasera di Radio 101 per l'evento Modifiche alla Viabilità, è posticipato anche l'arrivo di due treni, la scheda vede alle 15 l'apertura dei cancelli, alle 21 l'inizio del DJ set e alle 21.30, al concerto appunto di questi due artisti, The Colors, di The Colors, un gruppo, e Mr. Rain, in ingresso libero fino a esaurimento dei posti, sono previste un massimo di 5.000 persone in piazza e ci saranno anche modifiche alla viabilità. E' un altro appuntamento con la musica, questa volta a Recco, domani è un maxi schermo anche sul lungomare, a Ruba in 1440 posti, sold out il concerto di Giusi Ferreri. Altri temi, comunità in salute in Val di Vara, la sanità all'interno delle pagine delle Levante, ieri c'è stata la presentazione di un progetto sperimentale che parte proprio per i territori dell'Alta Val di Vara, ASL 4, laboratorio di innovazioni, servizi sociosanitari per i comuni di Varese Ligure, Carro e Maessana, il direttore generale della ASL 4 Petralia dice attenti ai bisogni, sono stati illustrati appunto i diversi servizi che interagendo tra loro possono garantire una copertura di servizi sanitari all'interno di questi territori. Abbiamo seguito anche noi la conferenza stampa di presentazione, vediamo di che cosa si tratta e poi sentiremo anche i sindaci. L'Alta Val di Vara come laboratorio sperimentale per cercare di offrire una risposta di salute integrata e vicina agli abitanti. Sono quelli di Varese Ligure, Carro e Maessana, i tre comuni chiamati dall'ASL 4 a partecipare al progetto Comunità in Salute, la prima sperimentazione che vuole promuovere un modello operativo di servizi sociosanitari in grado di mettere a fattor comune tutti coloro che pur nei diversi ruoli e funzioni garantiscono il presidio sanitario del territorio. Lo facciamo con risposte precise e mirate che danno orari di apertura, servizi, presenza di nuove attività, quali l'ambulatorio infermieristico tutti i giorni, tutto questo per rispondere anche durante l'estate che è un periodo di maggior frequenza nella presenza dei cittadini, anche villeggianti, per dare risposte concrete. L'azienda sanitaria ha realizzato così uno stampato che verrà distribuito direttamente sul territorio. Il primo appuntamento è con l'ambulatorio mobile Gulliver martedì prossimo al mercato settimanale di Varese Ligure e poi a Carro, che riassume tutti i servizi operativi e gli orari ai quali accedervi. Dal punto salute in ASL 4, in via Pieve a Varese Ligure, dove due giorni a settimana ci sono un medico di medicina generale e un pediatra. Una volta al mese il consultorio ostetrico-ginocologico e il servizio vaccinazioni e tutti i giorni feriali, dalle 7.30 alle 9.30, l'ambulatorio infermieristico. Sarà operativa anche una postazione di telemedicina per i teleconsulti. Gli altri soggetti coinvolti nel progetto sono le due farmacie di Varese Ligure, il dispensario di Carro, gli assistenti sociali, la RSA Casa Gianelli di Carro e il servizio di assistenza domiciliare infermieristica. Le carenze, soprattutto in territori molto ampi dal punto di vista dell'estensione, ci sono nei quasi 215 km quadrati dei tre comuni vivono 2850 abitanti, di cui un quarto over 65. Basta il pensionamento di un medico di famiglia per generare un comprensibile disorientamento nella popolazione, abituata ad un rapporto di fiducia e di disponibilità particolari. Il servizio però si cura l'ASD è stato sempre comunque garantito. Stiamo attendendo la definizione del bando di settembre quando avremo un nuovo medico di famiglia stabile per i territori di questi comuni, ma già fin d'ora e mai senza interruzione è mancato il medico di medicina generale, chiaramente in forma di sostituto, ma certamente per dare una continuità di garanzia di servizi a tutti i cittadini. Questo è dunque il direttore generale di ASD4, erano presenti, abbiamo visto nelle immagini i sindaci, i tre sindaci dei tre comuni coinvolti, sentiamo appunto le loro reazioni al progetto presentato. Un primo passo per dare un servizio al territorio che è uno dei più vasti estesi anche dal punto di vista territoriale. Sì, io sono tornato a essere sindaco due mesi fa e ho trovato una situazione difficile perché a Maisane è andato in pensione il medico storico, il dottor Bancalari, senza essere sostituito, non per cattiva volontà del sostituto provvisorio, ma insomma senza che ci sia un medico sul posto. Ci rendiamo conto che sono tempi diversi, bisogna organizzare diversamente il servizio, apprezziamo molto che il dottor Petralia si sia dato da fare e oggi si sia presentato di fatto un piano che riorganizza il sistema sanitario o sociosanitario dell'Alta Valdivara. dobbiamo integrare i medici di medicina generale, che sono pochi, agli infermieri, oggi si chiamano infermieri di famiglia, che sono laureati anche loro, non sono medici naturalmente, ma possono svolgere molte attività. Qui si aggiungono quelle degli assistenti sociali e delle strutture che possono accogliere le persone anziane o malate. Direi che stiamo muovendoci bene, io credo e spero che quanto prima quello di cui stiamo discutendo oggi, abbiamo discusso già in parte, possa essere realizzato. un bisogno di essere presenti sul territorio con i servizi della sanità. Questa è una prima risposta. Diciamo un progetto che viene incontro al territorio e incontro alla gente. Io mi auguro che comunque funzioni, nel senso che adesso lo stiamo provando, lo stiamo verificando. sulla carta è fatto bene, sulla carta dovrebbe dare un buon servizio, però io credo che con la collaborazione che c'è sempre stata e con l'Asla 4, se ci saranno da fare degli aggiustamenti, delle cose che inizialmente non funzionano, credo che sicuramente riusciremo a farlo. C'è bisogno di una sanità sul territorio? Assolutamente sì, noi abbiamo affrontato questa problematica che comunque è oggettivamente un dato rilevante e cerchiamo, bisogna in qualche modo cercare di essere pronti. l'età in qualche modo è un'incidenza negativa su quello che è la sanità. Dall'entraterra ci spostiamo adesso sulla costa, il giornale ci porta a Sestri Levante dove si è acceso il dibattito intorno all'aumento della Tari, c'è la destra all'attacco, tradite le promesse elettorali, il sindaco replica, scoperto errore di calcolo nel software, adeguamento rispetto necessario, Pistacchi e Conti denunciano, la tassa aumenterà anche nel 2024 per loro volontà a balzo del 20% e la scheda dice per quasi 10 anni gli addizionali locali sono rimaste ferme, al minimo di legge ora scatterà un aumento sulla tassa dei rifiuti pari al 18%, alla fine di porre un tempo minimo adeguato tra l'invio delle cartelle e la data di pagamento è stata modificata la scadenza del versamento, la prima rata oppure la rata unica, entro il 31 agosto, la seconda rata entro il 31 dicembre e tra le varie voci anche quella di Massucco, la giunta rincara le tariffe e mette in difficoltà cittadini e imprese. E sempre a Sestri Levante nuova chiusura delle gallerie per Moneglia, da giovedì la prossima settimana ci sarà una nuova chiusura delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia, vista la necessità di effettuare il consueto monitoraggio delle stazioni di rilevamento della staticità del passaggio, nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio scatta l'ordinanza con l'interdizione al transito dei veicoli dalle 2 alle 4 per l'esecuzione dei lavori nel tratto compreso tra via Ponzerone e località Valle Grande. Il tema della sicurezza è fondamentale, purtroppo spesso capitano incidenti e il segnale telefonico fin qui è stato praticamente assente e dunque si cercherà anche di intervenire anche su questo tema. Voltiamo pagina, altro tema legato alla viabilità, questa volta una notizia positiva perché a Borgonovo di Mezzanico è stato riaperto il cosiddetto Voltino, la Val d'Aveto adesso è più vicina, torna percorribile la strettoia lungo la 586, il futuro si pensa all'allargamento, intanto però è vietato il passaggio ai mezzi con altezza superiore ai 3,90 metri e larghi oltre i 3 AMT può tornare a percorrere il tratto con i suoi bus di linea consueti, vediamo proprio in foto un mezzo che è transitato appunto al passaggio, alla riapertura del tratto di strada, eravamo presenti anche noi con il nostro Giacomo Rizzi, siamo andati a vedere appunto che cosa è stato realizzato per garantire almeno quella minima sicurezza che ha potuto portare alla riapertura della strada, vediamo. Sono le 17.20 quando le prime moto transitano sotto la strettoia di Borgonovo, la strada ha riaperto dopo poco più di una settimana, le uniche limitazioni ora riguardano i mezzi sopra i 3,9 metri di altezza, quindi i tir molto grandi, nessun problema per bus e ambulanze, un ritorno alla normalità per i cittadini di Bolzonasca e per una parte di quelli di Mezzanego. Il problema era aprire veramente per l'abilità normale ma anche per la fornitura dei negozi, insomma è stato un disastro veramente, anche perché poi oltre al disagio ne ha sofferto anche l'economia perché questo è un periodo dove abbiamo turismo, quindi i negozi quasi vuoti, i bar quasi vuoti, insomma c'è stato tutto una brutta settimana. I lavori erano necessari dopo il cedimento nell'immobile sopra la strada avvenuto giovedì 13 luglio e il conseguente rischio per persone e mezzi. Gli operai dell'impresa Icose, incaricati da Annas, hanno costruito una sorta di tunnel per proteggere il transito. È una struttura a sé stante, autoportante, capace di resistere anche al crollo, al collasso dei due piani superiori dell'edificio. È prolungata rispetto alle dimensioni della casa per riuscire a contenere l'eventuale crollo anche all'esterno e quindi il traffico sotto, limitato nella larghezza e nell'altezza, però è in sicurezza. Rispetto a prima c'è un senso unico alternato con precedenza per chi scende e i pedoni devono continuare a passare nella strada laterale. La settimana prossima è in programma un incontro a Genova con Annas. L'obiettivo è un intervento strutturale che allarghi definitivamente il passaggio. Questa è un'opera provisionale che non può essere certo ritenuta definitiva perché comunque è un provvisorio, per cui bisogna cercare di andare avanti trovando una soluzione condivisa con Annas e privati e comunque diciamo che noi cercheremo di tenere viva la questione anche col Ministero perché comunque stiamo parlando di una strada interregionale. Intanto su tutta la Regione è entrato in vigore il divieto, l'allerta per incendi, quindi il divieto di accensione fuochi, massima allerta per gli incendi, vietato qualsiasi tipo di falò su tutto il territorio della Regione, divieti anche per chi sceglie le escursioni o i picnic su prati, fuochi proibiti anche laddove esistono braceri nelle aree attrezzate. Scatta oggi dunque lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Liguria fino a cessazione dello stesso. Per questo motivo è vietato su tutto il territorio regionale bruciare residui agricoli e forestali e poi in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale artificiale, nei pascoli, erbosi, nei castagnetti da frutto, nei filari. Queste attività sono vietate, ovvero accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o braccia e ancora fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio. E restiamo nell'entroterra per un appuntamento che ci porta a Rezzoaglio, la cabannina. Domani ci sarà questa giornata per celebrare questa razza autotona di mucche. In Val Daveto probabilmente anche se la certezza non c'è è nata, qui sicuramente in particolare nella piana di cabane si è adattata sempre. Qui è stata anche salvata quando era stata messa al bando. Da alcuni anni è iniziato il processo di recupero che culmina domani nella prima giornata della cabannina. Si inizia alle 9.45 ma anche su questo abbiamo il servizio. Seguire la cabannina dal campo alla tavola con la possibilità di saperne qualcosa di più sulla storia di questa razza bovina e sugli elevatori che hanno dedicato tempo ed energia al suo sviluppo e alla sua tutela. Questo in breve lo scopo della giornata della cabannina in programma Rezzoaglio domenica 23 luglio. Sarà una giornata quindi che prevederà da un certo punto di vista l'assistere al lavoro della caseificazione, della fienagione, della trasformazione e del pascolo. Dall'altra parte la parte di acquisto dei prodotti nei mercati dei produttori. Poi ci sarà una parte anche più proprio di visita degli animali e di capire proprio quali sono le differenze di questa razza, quali sono quegli aspetti che la contraddistinguono e dunci si infondo l'aspetto proprio del gusto perché la cabannina va anche sulla tavola e nei negozi dei ristoratori, dei ristoranti, dei ristoratori che hanno aderito e che avranno esposto proprio questo cartello. L'evento è stato voluto e promosso da APARC, Associazione Produttori e Allevatori Razza Cabannina e dal Comune di Rezzoaglio. La cabannina è una razza autoctona, animali di dimensioni contenute e capaci di pascolare anche nelle zone più impervie. Nell'antichità si erano diffuse dalla piana di cabanne dove prima pascolavano solo vini. Oggi ci sono circa 400 esemplari, i prodotti derivati sono presidio slow food per la qualità e per l'attenzione al benessere animale. Un grazie alla cabannina perché il suo DNA antico, originale, tipico l'ha mantenuta negli anni. Un grazie agli allevatori perché l'hanno saputa mantenere e la mantengono e adesso la stanno finalmente valorizzando. Continuiamo la lettura delle pagine del secolo XIX dell'edizione dell'Elevante. A Uscio, ieri la cerimonia con la scopertura di due targhi, inaugurata la passerella Fabrizi, la nipote dice amava questo posto interprete, comico o tragico, della romanità del cinema, era stato ospite per anni della colonia Arnaldi. Due targhi dunque in memoria dell'attore e l'altra per ringraziare i volontari del lavoro svolto del recupero di questa infrastruttura. Vediamo in foto il momento dell'inaugurazione con mozione ricordi al passo Spinarola per l'intitolazione del ponte pedonale. E poi a Casarza Ligure oltre milioni di fondi dal PNRR, il Petronio e la Collina, nuovi interventi contro il dissesto, l'assessore dice lavori affidati entro settembre. Ancora sul territorio dal Belgio a Sorlana, nella terra di Lavagna, un gruppo di scout recupera l'antica via coinvolta tutta la comunità, motore dell'iniziativa Enone & Lloyd e fa parte di un progetto di recupero dei sentieri di cui avevamo anche parlato. A Recco invece, canone comunale per i passi carrabili, fronte di mobilitazione e petizione, l'associazione Ageno Golfo Paradiso ha già raccolto 300 firme, vedendo che ci sarà l'assemblea pubblica a Megli, i temi di questa riunione sono sui problemi delle frazioni, convocata per venerdì 28 alle 21 nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie a Recco, si chiede l'introduzione delle finalità dell'associazione, la petizione per l'abolizione del canone per i passi carabili a raso, la carenza di sfalcio nelle vie collinari, illuminazione strade e sentieri in partecipazione pubblico-privata e miglioramento di sicurezza e viabilità delle aree e poi in installazione del nuovo ripetitore EOLO e raccolta nuove richieste. Questo è dunque un comitato che si è formato per chiedere interventi di questo tipo per l'entroterra, per questa frazione in particolare a Megli. E ancora Recco, Vivi il mare, via il concorso di pittura per i ragazzi, promosso da Proloco e da Comune, lancia il Comune Vivi il mare, concorso di pittura per bambini e ragazzi, i disegni vanno consegnati negli uffici della sede della Proloco entro il 31 luglio. Due notizie di cronaca, ladro arrestato grazie alla segnalazione del vicino di casa, è successo a Rapallo e vigili urbani aggrediti, denunciato l'uomo armato di coltello. E a Camogli adesso, Cristo degli abissi meteo avverso, niente cerimonia son fruttuoso, non late le celebrazioni nel borgo e la processione dei subacquei a causa delle previsioni meteo sfavorevoli. Il tradizionale tributo sostituito da una messa questa sera alle 21 nella Basilica di Santa Maria Assunta, appuntamento riviato al prossimo anno per la processione subacquea nel borgo. E poi un tuffo nella storia, le statue dei naviganti al cimitero centrale, sempre a Camogli, oggi la passeggiata didattica, ciceroni d'eccezione saranno Simonetti e Figari e poi ciclismo su strada, Giannini si aggiudica il titolo italiano dall'asfalto di Camogli all'Olimpo tricolore e la vittoria è per un caro amico scomparso. Vediamo in foto Roberto Giannini, campione italiano di ciclismo su strada. Parlavamo di diversi appuntamenti, questa volta a Camogli, ma ne vediamo altri nella nostra agenda per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per sabato 22 luglio, alle 10 al seminario Vescovile di Bedonia Roberto Maggi affronterà il tema I monti sono vecchi, Giovanni Mennella ed Elena Cimarosti parleranno invece di Giove e delle altre divinità pagane sulla priascritta di Cichero. A Chiavari c'è 20 eventi, parole fuori festival, dalle 17.30 in centro storico, musica itinerante con la Tiguglio for Friends Basker Day, alle 21 in piazza dell'Orto, spettacolo di magia Abracadabra. La Croce Rossa di Cicagna inaugura un nuovo Fiat Doblò in memoria di Alvaro Guerri, la cerimonia inizierà alle 18.45, alle 21 tombolata estiva. Bogliasco ospita la Sagra dei Pansoti, il via alle 19 in piazza 26 Aprile, da via Marconi sarà disponibile un servizio navetta gratuito. Ultimo giorno per la festa della birra a Borzonasca, stand aperti dalle 19 nella piazza di dietro al comune, musica live con Andreoni e il gruppo di ballo Mauri Sport. Sul piazzale di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari c'è la trentesima Sagra della Caponadda, si parte alle 19, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sessantatresima Sagra del Bagnuna Riva Trigoso, la distribuzione inizierà alle 19.30 nei giardini di Borgo Ponente, alle 21.45 musica con Ornella Group, alle 23.30 spettacolo pirotecnico. Prosegue la festa di Sant'Anna in via Fico a Rapallo, alle 20 l'apertura degli stand gastronomici e ballo con l'orchestra Armando e Cristina. Seconda serata di Festivarte a Lavagna, dalle 20 alle 22, concerto disegnato, musica e pittura dal bar dei pescatori e concerto di Maelstrom sulla piastra del porto. Serata di karaoke itinerante con Luca Storace, alle 21 l'appuntamento è ad Alpicella, frazione di Santo Stefano Daveto. L'estate di Varese Ligure propone il Palio Medievale, rievocazione delle antiche tradizioni del Borgo, alle ore 21 in Piazza Castello. Radio 101 Summer Party a Rapallo, alle 21 in Piazza delle Nazioni, saranno sul palco i The Colors e Mr. Rain. Gli ingressi saranno consentiti a partire dalle 15.00. Storie di legno e di mare, collage di performance artistiche di Franco Casoni & Friends, l'inizio alle 21 a Calata Ovest di Chiavari. La serata sarà lietata da David Valeriani al pianoforte. Alle 21, sul Sagrato di Masso a Castiglione Chiavarese, lo storico Roberto Rolleri parlerà delle miniere d'oro di Masso e della Liguria di Levante. Sempre alle 21, ma sul lungomare di Deiva Marina, rassegna di canzone d'autore ed autrice Mermaids, ad esibirsi Colby e Rosa Acustica. A Lavagna c'è anche il Libri in Borgo. Alle 21, al porticato Brignardello, Gianfranco Vergoni presenterà il libro Il Cielo d'Erba. E continua il 25esimo Festival Organistico Internazionale. Alle 21.15, al Santuario del Gesù Bambino di Praga, da Renzano, si esibirà all'organo Bartomeu Manresa. Alle 21.15, al ridotto del Teatro Sociale di Camogli, prosegue il 40esimo Festival in Musica, con Rossini tra scherzi e inganni. Sul palco la soprano Mirella Di Vita e il pianista Dario Bonuccelli. Sul Sagrato della Chiesa di San Michele di Pagana, a Rapallo, gli inviati Nello Scavo e Andrea Nicastro parleranno della guerra in Ucraina, l'inizio alle 21.30. E infine, osservazione degli astri con l'astrofisica Chiara Rigi, l'inizio alle 21.30, al rifugio Malga Zanoni di Borzonasca, nel parco dell'Aveto. Noi chiudiamo la nostra rassegna andando a leggere la pagina delle Levante, sport del secolo XIX. Le due squadre impegnate nel prossimo campionato di Lega Pro, ovvero la Virtusentella e il sesto Levante Calcio, riguardano i temi affrontati, gli impianti sportivi nei quali le due squadre giocheranno il prossimo anno. Il comunale di Chiavari, c'è un bando per il suo affidamento, la svolta, modificato questo bando, zero spese per utenze, sono state accolte dall'amministrazione le richieste dell'Entella, quindi c'è stata questa modifica al bando di gara. Invece al Sivori, lavori in ritardo, Sestri morde il freno, intanto i giocatori sono ospiti del Riva Samba. Il presidente dei saliti dice, più facile vincere la D che la burocrazia. Le due squadre comunque sono entrambe in ritiro, una a Tavarone e una in Trentino Alto Adige per preparare il prossimo campionato di Lega Pro, durante il quale si incontreranno anche nelle derby. Lo sport chiude questa edizione della nostra Tg Rassegna Stampa, l'informazione torna alle 12.45 con la prima edizione del Tg Telepace e la nostra informazione è trovata anche sul nostro sito, teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie per essere stati con noi.